Ehi la buongiorno, allora avevo promesso che avrei fatto una live questa domenica ma purtroppo devo purtroppo rinunciare perché sia Bob che io ci siamo beccate l'influenza e non siamo proprio in grado perché abbiamo la febbre alta e non siamo anche in forma insomma e io sono anche abbastanza impresentabile direi che vorrei evitarvi questa sofferenza in un periodo così bello che è il Natale però mi sono messa l'impegno prima che peggiorassi troppo da non farvi mancare i vlogmas purtroppo non saranno i vlogmas in diretta ma saranno vari spezzoni e vari tutorial che ho preparato per l'evenienza insomma delle feste del Natale che sapevo che comunque devo fare i vlogmas e mi sono preparata tanti piccoli tutorial e ho montato dei pezzettini di video spero che ciò vi intrattenga ogni promessa è debito e per quanto riguarda domenica la live verrà rimandata a momenti in cui staremmo meglio e spero subito dopo le feste dovremmo trascorrere feste proprio tra parenti cioè nel senso la vigilia di Natale da un mio cognato il Natale con i miei e mia sorella e il Santo Stefano da un altro mio cognato e speriamo che mi riprendo anzi ci riprendiamo entrambi anche se Bob l'influenza l'ha preso qualche giorno prima di me infatti gentilmente me l'ha attaccato e spero che riusciamo a tirarcene fuori ma insomma ci vuole un'altra settimanella speriamo bene da poterci godere anche noi Natale in famiglia non mancheranno gli auguri prima di Natale mi dispiace solo appunto di non fare questa live però non mancheranno gli auguri ce li faremo in community farò un piccolo video insomma adesso vediamo come faremo perché ci tengo tanto alla mia community a tutti quanti voi intanto vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento